Per prima cosa vi do il benvenuto, grazie, grazie di essere qui stasera. È un piacere rivedere dei volti che ogni anno ci accompagnano, la signora che salutavo prima, ma tanti di voi riconosco qui. Quindi grazie per essere fedeli ad endorfine. Iniziamo con una serata intensa, con uno scrittore molto noto, che ho il piacere di annunciare. Si tratta di Antonio Scurati, al quale darei un caloroso benvenuto. Questa sera sarà accompagnato da il giornalista Marco Bazzi, benvenuto anche a lui. Ben ritrovato Marco. Una buona serata a tutti, grazie. Buonasera, ben ritrovati, benvenuti. Rubo per un paio di minuti la scena a Scurati per raccontarvi alcuni aneddoti sulla vita di Mussolini in Svizzera e in Ticino. Allora, lui nasce in provincia di Forlì, a Predapio, come penso sappiate, classe 1883. Arriva in Svizzera nel 1902 in cerca di lavoro e ha 19 anni. Trova lavoro come manovale in Svizzera francese. A Lausanna viene arrestato per vagabondaggio. Nel nostro paese prende dimestichezza con la propaganda e vive sulla sua pelle un'esperienza che è ancora quella dura degli emigranti. Diviene agitatore socialista, scrive sull'avvenire dei lavoratori, che era allora il giornale dei socialisti italiani in Svizzera. Nella primavera dell'anno successivo, quindi il 1903, si trasferisce a Berna, dove la polizia lo arresta una seconda volta per aver istigato i lavoratori allo sciopero. Consegnato alle autorità italiane a Chiasso, viene espulso, ma l'espulsione vale soltanto nel canton Berna, quindi lui può rientrare in Ticino e va a Bellinzona. Intanto il suo nome però finisce nel registro, nel libro nero del Ministero pubblico della Confederazione, che raccomanda alle polizie cantonali di sorvegliarlo strettamente come anarchico. Nel 1904 torna a Lausanne, dove si iscrive alla Facoltà di Scienze Sociali e da quel breve trascorso accademico nasce, nel 1937, una laurea honoris causa. Il dottor Mussolini, ovviamente le polemiche non mancarono. Ma torniamo ai primi anni del secolo, rientra in Italia, poi varca di nuovo il confine, a Lugano lavora come muratore sui cantieri stradali e ferroviari. E conosce il leader socialista Guglielmo Canevascini, che tutti voi conoscete, che addirittura l'ospita a casa sua. Nel 1910, il nome di Mussolini, muratore residente a Lugano, figura sul registro di un albergo del San Bernardino. Andava anche in montagna, insomma. Poi c'è una fotografia del 1912, anno in cui diviene direttore dell'Avanti, il giornale dei socialisti italiani, che lo ritrae insieme ad alcuni socialisti, a un paio di socialisti, a Bodio in Leventina. Dall'Avanti verrà cacciato perché lui ha una posizione interventista rispetto alla Prima Guerra Mondiale e viene cacciato anche dal Partito Socialista. Fonda il Popolo d'Italia, che è il suo giornale. Nel 1919 fonda a Milano, e lo racconta bene Scurati, i fasci di combattimento, che due anni dopo diventano partito nazionale fascista. E qui inizia la storia di M raccontata da Scurati, M il figlio del secolo, M l'uomo della provvidenza, citazione da Papa Pio XI, M gli ultimi giorni d'Europa, ci sarà un quarto libro che uscirà in settembre, perché i suoi escono sempre in settembre. E un'opera monumentale che ha riscosso un ormai successo, un romanzo documentario come lui lo definisce. Allora, leggendo due dei tre libri di Scurati, ho pensato in mente la ricerca del tempo perduto di Proust, per la lunghezza anche, ma per la documentazione dettagliata degli eventi. E credo che però questa ricerca sia una ricerca collettiva che lui ha fatto, non individuale come fece Proust. Però la grande domanda è come mai Mussolini, che a Milano riunisce per la prima volta 100 persone, due anni, tre anni dopo diventa il padrone dell'Italia. Scurati. Grazie, buonasera a tutti. Io spero che i germi del raffreddore che mi sono stati trasmessi dalla mia figlia bambina, dopo il suo primo giorno di asilo, ci consentano di arrivare in fondo a questa serata. perché loro se la cavano con 24 ore di fastidio, io, non so, sono quattro giorni che non riesco a respirare. Allora, questa è effettivamente la domanda, almeno dal mio punto di vista, e per far apprezzare proprio tutto il peso di questa domanda e di questo, diciamo, enigma. Se mi consentite vi racconto un aneddoto, che è narrato nel primo volume di M, Il figlio del secolo, quello che lui non ha letto. Allora, nel novembre del 1919 si tengono in Italia le prime elezioni politiche del dopoguerra. La guerra mondiale, la grande guerra, è finita da pochi mesi, ha disseminato i campi d'Europa di milioni di morti, di svariati milioni di feriti, mutilati, invalidi. E ci sono decine di milioni di ritornanti, cioè di uomini che hanno trascorso gli ultimi tre, quattro anni delle loro vite nelle trincee, dove, in un ambiente apocalittico, che non era mai stato esperito dall'essere umano prima di allora, e che in qualche modo ha annientato l'umano in loro. È un mondo sull'orlo di una trasformazione, di una mutazione profonda. Tre dinastie che hanno governato l'Europa negli ultimi cinque secoli sono cadute una dopo l'altra nel giro di poche settimane. Gli uomini, come Benito Mussolini, sentono che in quel momento della storia tutto è possibile. E lo percepiscono con precisione, con esattezza, e hanno ragione. È un momento in cui, come dirà uno di loro, un giorno esci dalla galera e il giorno dopo sei presidente del Consiglio. Ed è quello che accadrà a Mussolini stesso. Ebbene, in questo clima di mutamenti, diciamo così, apocalittici nel senso letterale, di fine e inizio di nuovi mondi, si tengono le elezioni politiche. Per la prima volta compare la lista dei fasci di combattimento che sono stati fondati pochi mesi prima, nel marzo dello stesso anno a Milano in Piazza Sansepolcro. È una lista quindi di debuttanti della politica, ma che a nove era già dei nomi popolari o addirittura prestigiosi. In questa lista figura non solo il nome di Benito Mussolini, che era una personalità molto nota. Benito Mussolini era stato non solo il direttore dell'Avanti e membro del Partito Socialista, ma era stato uno dei leader più amati dall'ala più radicale, giovane del Partito Socialista, quella più rivoluzionaria, prima della sua cacciata. Ma questa lista a nove era il nome di Filippo Tommaso Marinetti, che comunque è stato uno dei geni della prima metà del secolo, il fondatore del futurismo, noto industriale, ma a nove era il nome di Arturo Toscanini, che di lì a qualche anno diventerà una delle bandiere a livello internazionale e mondiale dell'antifascismo. Toscanini, che era già Toscanini, era già il maestro, vede in questi giovani irruenti che vogliono cambiare le cose, che vogliono abbattere il vecchio sistema, guarda loro con interesse, li finanzia, e addirittura scrivono il suo nome nella lista. Bene, questa lista dei fasci di combattimento annovera anche molti professionisti della violenza, la maggior parte dei pochissimi che partecipano alla riunione di fondazione dei fasci di combattimento nella sala di rappresentanza dell'Associazione del Commercio dell'Industria di Milano, soltanto cento erano i convenuti in Piazza Sansepolcro, meno di quanti siamo noi qui adesso, all'origine del fascismo. La maggior parte di loro erano professionisti della violenza, non tutti ma molti. Per lo più reduci degli arditi, vale a dire le truppe d'assaldo, i commando della Prima Guerra Mondiali, gente che ritornata dal fronte non riusciva a riadattarsi alla vita civile. Il simbolo di questa lista è una bomba a mano, una granata da lancio, più tecnicamente, si chiama bomba Taveno, che veniva usata dagli arditi nella Prima Guerra Mondiale. Allora, questo per dire quanto le intenzioni, diciamo, nello stile dei protofascisti fossero chiare fin dal principio, c'era una bomba a mano come simbolo elettorale. I grandi avversari dei fasci di combattimento, a quella data, erano i socialisti, il Partito Socialista, da cui Mussolini proveniva, che ben conosceva, che si predicava e voleva rivoluzionare, o tanto quanto si volevano rivoluzionare i fasci di combattimento. E non a destra all'epoca. All'epoca, Mussolini, pur disprezzando completamente i programmi, diceva sono carta a straccia e cose, aveva un programma che era più a sinistra di quello del Partito Socialista dell'epoca. Quindi gli antagonisti erano i socialisti, perché Mussolini diceva questa rivoluzione non la faranno mai, io li conosco, sono dei farlocchi la classe dirigente socialista, la rivoluzione la faremo noi, sono io, combatto il nome del popolo. Vanno alle elezioni. Risultato delle elezioni. Partito Socialista italiano, un milione e trecentomila e rotti voti. Partito del movimento dei fasci di combattimento, quattromila e trecento voti. Quattromila e trecento, un milione e trecento. È un fiasco totale, totale. Nessun eletto, nemmeno Benito Mussolini. L'insuccesso è di tale portata che gli ex compagni socialisti, nei giorni del trionfo, perché per loro era stato un trionfo elettorale, si peritano di sfottere il vecchio compagno che loro ormai odiano come traditore e organizzano un finto corteo funebre che sfila sotto la finestra del suo ufficio di direttore del popolo d'Italia che si trovava in un vicolo sozzo e fetente di quello che un tempo era il bottonuto, cioè il quartiere del malaffare, della prostituzione, dove Mussolini aveva, non a caso, la sede sgangherata e sudicia del suo giornale e praticamente inscenano un finto funerale a bara aperta con dentro un fantoccio con le sembianze di Mussolini sotto la finestra. Non è folclore, cioè è veramente accaduto ed ha un significato. Vi dà l'entità della sconfitta, della prima iniziativa politica della sconfitta elettorale di Mussolini. Lui ne pare che, Ezio Mauro mi ha detto che non l'ha ritrovato, perché lui è così secchione che è andato a vedere, però tutti i libri di storia dicono che sull'Avanti apparve un finto necrologio che diceva ritrovato un cadavere in stato di decomposizione nel Naviglio, pare sia il cadavere di Benito Mussolini. Cioè lo prendevano in giro, lo consideravano tutti un politico finito. Lui stesso si considerava un politico finito al punto che si sfogò con l'amante e mentore di allora, la grandama Margherita Sarfatti, dicendo basta, io con la politica la faccio finita, ne ho fatta fin troppa, ho tanti talenti, intraprendo una nuova carriera, posso fare il musicista girovago, perché strimpellava appena il violino. Posso scrivere delle commedie, ne ho già pronte due, posso scrivere un romanzo, chissà perché, quando uno non sa più bene cosa fare, tira fuori il romanzo. Però la Sarfatti lo rincuora, lo sostiene, gli dà coraggio e lui ritorna sui suoi passi. Ma per darvi l'idea di quanto venisse considerato da tutti un politico finito, Mussolini viene arrestato, perché nel suo ufficio di direttore del Popolo d'Italia i carabinieri fanno irruzione e trovano nella cassaforte bombe Tavenot, diciamo granate da lancio, pistole, cose, lo arrestano. E viene liberato per intercessione del direttore del Corriere della Sera, che era uno degli esponenti di maggior prestigio del pensiero liberale italiano, che quindi avrebbe dovuto individuare nei fascisti i suoi peggior nemici e che però, come per molti, anche grandi intelletti del movimento liberale, pensiamo su tutti a Benedetto Croce che non capì assolutamente chi aveva davanti, sottovalutò i proto-fascisti e telefonò a Nitti che era il Presidente del Consiglio dicendogli senti Mussolini è già un rudere, non facciamone un martire, liberatelo. E così fu. Ebbene, questo avveniva nel novembre del 1919, 20, 21, 22, ottobre del 22, tre anni dopo, marcia su Roma, Mussolini conquista il potere non con la forza, diciamo, ma in un abilissimo gioco politico nel quale, minacciando l'uso della violenza e raggirando tutti i suoi interlocutori politici, ottiene da Vittorio Emanuele terzo re d'Italia che, come dire, la sua memoria sia per sempre segnata da questo gesto, non dimentichiamolo, l'incarico ufficiale e legale di formare il suo primo governo. Mussolini arrivato in vagone letto da Milano perché lui conquistò l'Italia viaggiando in vagone letto. Questo è un altro dettaglio che fa sorridere ma che è molto eloquente e cosa ci dice? Ci dice che certo Mussolini violentò l'Italia con le sue squadre, con la sua violenza sistematica e la stuprò, se volete, ma contemporaneamente la sedusse anche, una cosa che non dobbiamo dimenticare. Se no non sarebbe arrivato viaggiando in vagone letto ma sarebbe arrivato su un furgone alla testa di uomini in armi. Gli uomini in armi erano fuori di Roma a prendere acqua come tutte le pedine della storia che vengono manipolate dagli altri come dei bovini che ruminano sotto la pioggia lì mentre lui faceva il suo gioco politico arriva in vagone letto sale le scale del Quirinale scale di marmo del Quirinale reggia all'epoca del re d'Italia lui figlio di un fabbro di una piccola frazione nemmeno di predappio di una piccola frazione di predappio una piccola cittadina sperduta delle Romagne all'età di 39 anni che per l'epoca era giovanissimo il più giovane capo di governo del mondo diciamo occidentale dell'epoca e riceve da sua maestà Vittorio Emanuele l'incarico di formare il governo quindi arriva alla fine minacciando l'uso della violenza esercitandolo ma legalmente al potere scusate l'ho fatta a lunga ma per sottolineare l'entità del quesito come è stato possibile ecco la mia prima risposta poi magari la approfondiremo nel corso della conversazione è che non sarebbe stato possibile con la sola e diciamo così semplice violenza il fascismo è stato violenza fin dal suo primo giorno di vita e lo è rimasto lungo l'intero arco della sua vita storica il fascismo è inseparabile della violenza la violenza non è un accidente del fascismo è l'essenza del fascismo eppure la violenza omicida la violenza omicida non la violenza verbale la violenza omicida sistematica eppure se ci fermiamo alla sola violenza non capiamo come ciò sia potuto accadere dobbiamo concentrarci sull'altra metà quella diciamo così forse meno evidente meno eclatante quella della seduzione violenza sì ma contemporaneamente seduzione però ci vuole un movente la paura che lui agita la paura la paura è un'altra delle componenti essenziali del fascismo di allora come di diciamo dell'eredità fascista nel presente ed è legata alla violenza sicuramente perché ma poi porta nel campo della seduzione provo a spiegarmi i fascisti fanno paura va bene devono fare paura quando cominciano la loro diciamo azione politica cominciano picchiando all'inizio veramente cominciano con delle azioni un po' che noi chiameremo demagogiche di soldati dell'ordine no? non so c'è uno sciopero dei tramvieri loro escono e mettono sta messa in scena che loro fanno fanno viaggiare i tram no? cose del genere però molto presto cominciano con la violenza con con le bastonature con quelle che chiamano spedizioni punitive nelle campagne emiliane romagnole prima poi in tutto il nord Italia iniziano a picchiare ad aggredire ad uccidere ad assaltare e a distruggere quel meraviglioso sistema migliore meraviglioso edificio costruito da un secolo a quella parte dal socialismo quella rete di camere del lavoro di cooperative agricole di società di mutuo soccorso e quindi fanno paura devono far paura vogliono far paura però non si ferma qui il rapporto tra il fascismo e la paura c'è un altro versante ed è quello che intendevo la paura che lui agita come spettro di fronte alla piccola media e alta borghesia esattamente i fascisti fanno paura ma Mussolini il Mussolini che io definisco populista poi magari ci capiremo su questo agita lo spettro della paura fomenta la paura e cavalca la paura non la paura dei suoi fascisti cioè quella generata dai suoi fascisti Mussolini ha una delle ha numerose brillanti intuizioni politiche su ciò che la politica diventerà nell'era delle masse e attenzione l'era delle masse iniziava allora e oggi è nella sua fase matura noi siamo dentro una storia che comincia allora una di queste brillanti intuizioni perché Mussolini era tutt'altro che un personaggio ridicolo grottesco caricaturale come troppo spesso è stato erroneamente dipinto Mussolini era una mente diciamo così politica di grandissima capacità una di queste intuizioni che poi ne abbia fatto un uso sciagurato per me non c'è nessun dubbio ma una di queste intuizioni è che esiste esisteva allora come oggi un'unica passione politica più potente della speranza e questa era la paura Mussolini veniva dal partito socialista abbiamo detto no il partito socialista era il partito della speranza quest'idea luminosa che veniva dall'ottocento secondo la quale la vita dei nostri figli sarebbe stata migliore della nostra guardate che prima l'umanità non aveva mai sognato questo la vita dei tuoi figli sarebbe stata uguale alla tua tu eri contadino zappavi quell'angolo di mondo il tuo figlio avrebbe zappato quell'angolo di mondo se gli andava bene invece dalla rivoluzione in poi dieci generazioni vivono nel sogno della storia del mutamento progressivo la vita di mio figlio sarà migliore della mia è quella di mio nipote migliore ancora di quella di mio figlio il futuro c'è ed è un futuro di giustizia e di vendetta vendicherà tutti i torti di generazioni senza nome di schiene spezzate questa è l'idea socialista magnifica magnifica Mussolini veniva da lì ma ne era stato espulso lo avevano cacciato durante un'assemblea tumultuosa a Milano alla società umanitaria in cui i compagni di ieri si spintonavano per potergli sputare per poterlo colpire li aveva delusi lo amavano e allora lui nel crepuscolo della guerra ha questa intuizione quando ormai la politica della speranza gli è preclusa capisce osservando i reduci i milioni di reduci che tornavano che avevano vissuto per anni di paura avevano mangiato paura avevano fumato paura in queste trincee dove la morte poteva arrivare da ogni lato dal cielo con i bombardamenti da un nemico che non vedevi addirittura dai gas in odore in odore no ma in colore intangibile capisce che la paura è una passione che divora l'umanità dell'epoca e lui cosa fa scommette tutto sulla paura non solo sulla paura che producono i suoi squadristi che generano i suoi squadristi ma sulla paura di che cosa sulla paura delle speranze degli altri cioè sulla paura che la rivoluzione socialista la politica della speranza genera nella piccola borghesia e nella grande e allora lui soffia su quella paura continua a dire la propaganda fascista dell'epoca dovete avere paura una minaccia mortale incombe su di voi e questa minaccia da dove proviene proviene dal di fuori no dallo straniero dallo straniero invasore uno dice ma come lo straniero invasore i socialisti sono italiani italianissimi no abitano la porta accanto anche tu eri un socialista no propaganda fascista presenta i socialisti come portatori qui sono letterale della peste asiatica quindi di un virus mortale che proviene dall'asia perché perché guardavano ovviamente la rivoluzione russa no la rivoluzione d'ottobre quindi l'asia e allora la politica della paura sfomenta questa paura la attizza e poi compie un secondo passo che è una sorta di trasmutazione alchemica dalla paura in odio prima dice devi aver paura la tua vita è minacciata quel poco alla piccola borghesia che hai faticosamente guadagnato ti verrà tolto quel tanto che hai alla grande borghesia ti verrà sottratto e poi però dice non ti devi limitare a odiare non ti devi limitare ad aver paura devi odiarli e questo è un passo decisivo perché mentre la paura è un sentimento depressivo è una passione forte forse non ci si sente mai così vivi come quando si odia è una triste verità ma in taluni casi l'odio scusate mentre la paura è un sentimento depressivo ho saltato un passaggio cioè che ti rinchiude ti rende introverso riduce il tuo spazio anche fisico ti chiudi sempre più dentro l'odio invece è un sentimento è una passione euforizzante estroversa che va verso l'esterno quando si odia ci si sente vivi come quando si ama e così e allora questa è la politica della paura di Mussolini prima ti dice devi aver paura lo straniero invasore non solo è alle porte ma è accampato dentro i confini nazionali e poi ti dice non ti limitare ad averne paura odialo e lo schema vincente perché è di un'efficacia formidabile allora come oggi si completa dicendo la realtà non è poi così complessa come te la presentano tutti i problemi si riducono ad un unico problema quel problema si riduce a un nemico quel nemico a uno straniero invasore e non può arrivare da tutte le parti sta lì davanti a te lo vedi è quello lì è anti italiano o è anti francese o è anti americano come volete e tu hai diritto di ucciderlo e io sto al tuo fianco e sono armato ecco che la paura che il fascista col manganello seminava no? Mussolini col cappello raccoglie salvo poi trovarsi Antonio nel 1939 alleato involontario dell'Unione Sovietica perché quando Hitler dice guarda che ho fatto un patto mi sono alleato con i comunisti quindi questa la deve mandare giù però è interessante perché i libri sono pieni di citazioni documenti illuminanti che cosa diceva nel 1934 Mussolini di Hitler è un pazzo un maniaco sessuale 1934 oppure conosco Hitler un imbecille e un cialtrone un cialtrone fanatico allora abbiamo fatto un salto di 15 o 20 anni torniamo indietro no no ma è un salto secondo me in qualche modo sul posto nel senso che quando Mussolini si trova di fronte a Hitler al suo cospetto vicende che io racconto nel terzo volume del ciclo viene un po' riportato all'origine nel senso che il suo rapporto con Hitler è un rapporto molto interessante complesso di almeno per come lo leggo io di rispecchiamento e rivalità mimetica nel senso che all'origine della scrittura di questo terzo volume gli ultimi giorni dell'Europa che va dal 38 primo viaggio di Iterini in Italia nella primavera del 38 fino alla dichiarazione di guerra a giugno del 40 io mi chiedo cosa vedeva Benito Mussolini quando guardava Hitler nel 1938 perché noi oggi col senno di poi dopo tutto quello che è accaduto abbiamo un'idea più o meno precisa di Hitler e del nazismo ma loro prima di tutte le catombe l'apocalisse quando lo guardavano nel 38 cosa vedeva? Ed è un dilemma che Mussolini si è dovuto porre perché quando Hitler scende in Italia nel 38 viene sia a coronare anche il suo sogno di pittore mancato voi sapete forse che Hitler aveva fatto domanda di ammissione all'Accademia delle Belle Arti di Vienna e non era stato ammesso e qui viene da chiedersi se l'avessero ammesso ma lui viene in Italia non solo per ammirare le bellezze d'arte dell'Italia in particolare Firenze che era il suo sogno e cose viene in cerca di un alleato a quella data la Germania nazista non aveva nessun alleato era solo al mondo e per quanto diciamo pazzo mettiamola così pazzo non era nemmeno Hitler avrebbe scatenato guerra all'Europa e al mondo da solo il fatto che Mussolini decida di allearsi con lui ha una importanza decisiva rispetto all'attuazione del piano di aggressione di Hitler e Hitler viene per cercare un alleato quindi lo mette di fronte a una decisione Mussolini cerca condotta tipicamente italiana di svicolare in tutti i modi di non rimanere mai solo con Hitler per evitare che lui affronti l'argomento politico eccetera però deve affrontarlo allora cosa vede cosa vede vede il pazzo vede il maniaco sessuale sono parole sue sono documenti tutto sembra sapete lo stereotipo da bar di Hitler il maniaco sessuale sto perverso questi baffetti ma loro già ragionavano in quei termini lì ragionavano già in quei termini lì ed è spaventoso vedere come alcune delle decisioni fatali tragiche per l'Italia dell'Europa di politica estera di Mussolini sia stata presa sulla base degli stereotipi e preconcetti di discorsi da bar i francesi sono tutti sifilitici gli inglesi ormai il popolo dei tre passi al giorno fanno i cimiteri per i cani non si batteranno più non vi dico cosa diceva degli svizzeri e allora lui quando guarda Hitler vede il tratto di follia diciamo il volto demoniaco chiamiamolo così che c'è nella volontà di potenza smodata del nazismo sì lo vede come certo che lo vede e ne ha paura sì ne ha paura e allora perché lo segue all'epoca Mussolini avrebbe potuto tranquillamente imboccare un'altra strada le democrazie liberali Francia meno perché però Inghilterra Stati Uniti gli facevano ponti d'oro anche soltanto perché lui rimanesse neutrale no e allora perché perché lui si guarda al di là di ogni calcolo diciamo così di un spudorato sciagurato opportunismo e cinismo no entro in guerra un anno dopo perché ormai loro l'hanno già vinta allora io attacco la Francia mi spartisco una fetta della torta che come tutti i calcoli cinici quasi tutti poi si rivela sbagliato ma perché lui si vede nello specchio quando vede Hitler quando lui vede la violenza nazista no vede la violenza fascista delle origini ma potenziata dalla potenza tedesca nel momento in cui l'Italia Mussolini scopre finalmente di aver parlato a Vanvera per vent'anni perché dopo vent'anni i generali sono finalmente costretti a dirgli dalle circostanze la verità riguardo alla totale impreparazione militare dell'Italia e fino al giorno prima in parte gli avevano mentito a riguardo ma perché perché l'avevano ingannato no perché lui aveva creato un popolo di succubi di servi e i servi mentono al padrone sistematicamente e allora proprio mentre scopre la totale impreparazione militare dell'Italia dopo aver predicato per vent'anni il popolo guerriero e scopre l'arretratezza industriale di un paese che vorrebbe essere una grande potenza nella retorica fascista ma che in realtà è un paese arretrato guarda nello specchio di Hitler del nazismo tedesco la violenza fascista la volontà di potenza fascista Hitler era stato un suo allievo lui era stato il modello e però lo vede rifulgere diciamo così dall'aura dell'enorme potenza industriale e non ancora militare ma prossima della Germania quindi ne è spaventato però ne è anche ammirato e allora comincia quello sciagurato gioco di menzogna a se stesso ai suoi collaboratori al paese a Hitler pensando di potersi come sempre aveva fatto barcamenare di poter lui manipolare manovrare Hitler questo ragazzone che in fondo quando stava con lui era cordiale che sì certo però lui la sapeva più lunga quando Hitler stava proprio dall'altra parte cioè non avrebbe fatto quello che doveva fare comunque e inizia questo rapporto appunto di spaura spavento e però anche desiderio gratificazione narcisistica ammirazione che è quel rapporto ambivalente di quando noi cogliamo il nostro riflesso in uno specchio ci vediamo riflessi da uno specchio che però è uno specchio diciamo distorcente a proposito dell'immagine che Mussolini aveva in Europa negli anni 20 c'è una una frase un passaggio del Washington Post dove si dice Mussolini un uomo coraggioso che sfida la morte facendo il proprio dovere era dopo l'attentato che lui ha subito e gli vince e merita l'ammirazione del mondo chiunque abborre dal comunismo e dagli assassini che esso produce deve sperare fervidamente che Mussolini continui la sua vita miracolosa Washington Post non il popolo d'Italia o Churchill che dice nel 1927 se fossi stato italiano sono sicuro che sarei stato interamente con voi dal principio alla fine della vostra lotta contro i bestiali appetiti e le passioni del leninismo quindi c'era un sostegno dell'Europa insomma sì allora non di tutta l'Europa però del mondo occidentale di buona parte del mondo occidentale allora questo è uno dei motivi per cui ho voluto diciamo giustapporre ma quasi apporre in calce a ogni capitolo una scelta una selezione dei tantissimi documenti che ho dovuto consultare per poter scrivere questi libri e cioè far vedere proprio quali fossero le quali fossero le idee la comprensione che i contemporanei di questi accadimenti avevano sugli accadimenti non tre anni dopo dieci anni dopo ma nei giorni stessi e quanto fosse anche spesso la cecità l'accecamento cioè c'è qualcosa di commovente nei documenti anche le lettere private l'aspetto commovente è che ti rivelano quanto noi umani siamo ciechi riguardo alle nostre stesse vite sia quando esse sono collocate nella storia sia nelle vite private cioè quanto non capiamo non sempre ma spesso quello che ci sta accadendo succede anche nella vita privata no? che una mattina uno si sveglia e dice guarda la moglie o il marito o quello che è che sta a fianco nel letto e dice ma io non ho capito niente chi è questa persona però nella vita pubblica anche succede no? se vedi cosa diceva Benedetto Croce quando Benedetto Croce era uno dei più grandi geni italiani delle menti più brillanti dei grandi filosofi di livello europeo e quando va a vedere Mussolini che parla al Teatro San Carlo alla vigilia della marcia su Roma dopo aver parlato in piazza del plebiscito agli squadristi no? a Roma poi va in teatro a parlare alla borghesia cittadina e all'aristocrazia c'è ancora la scena allestita davano la madama Butterfly e lui lì ovviamente intrattiene la borghesia dell'aristocrazia e in un palco c'è Benedetto Croce e Don Benedetto con i suoi allievi e Benedetto Croce è divertito dallo show di Mussolini è uno dei suoi allievi più giovani invece è inorridito perché la sente no? la brutalità la sente forse è stato in piazza la mattina e quando escono dice di rispetto che avevano una volta dice Don Benedetto ma vi ho visto divertito ma non la sentite la violenza che quest'uomo questa gente porta con sé lui gli risponde con sto vezzo dei grandi diciamo così grandi borghesi della Napoli dell'epoca parlando un po' in italiano un po' in dialetto dice la politica è teatro questo è solo un po' più teatrante degli altri Benedetto Croce non capiva pensava anche lui poi una volta quando questi giovanotti entrano nel Parlamento noi nelle combinazioni parlamentari sai ce li manovriamo ce li giochiamo e Mussolini pensava di fare la stessa cosa con Hitler prima ma al di là della sottovalutazione no? del mondo liberale nei confronti del fascismo in fondo sì sono giovani irruenti vabbè sono violenti però poi quando entrano in Parlamento li sistemiamo si addomesticano c'era la questione ovviamente del fronte contro il comunismo contro il bolshevismo e da Churchill a Hitler videro in Mussolini il primo alfiere di questo muro alzato contro il comunismo quando prima lui ricordava che nel 39 lui dovette digerire l'alleanza con l'arci nemico cioè Hitler a un certo punto per convenienza si allea con l'unione sovietica Mussolini e lui era stato il primo a innalzare la bandiera dell'anticomunismo aveva fatto come dire il suo cavallo di battaglia per tutta una vita e c'era c'era anche questa questa ragione per diciamo così la benevolenza con cui quest'uomo nuovo dell'Italia quest'uomo a provvidenza metteva a posto sto paese e poi c'era il solito atteggiamento di sufficienza che hanno soprattutto diciamo nel mondo nordico nei confronti degli italiani che in fondo è sempre l'Italia è uno stato di minorità un popolo così la grande bellezza però sciagurati insomma dei bambini mai cresciuti se qualcuno li mette un po' in ordine va bene quando c'è la marcia su Roma ci sono queste cronache del non mi ricordo di quale giornale americano che dice ma è una rivoluzione magnifica di giovani esuberanti si canta si balla per le strade è un piatto di pasta ma così proprio e tutto questo per dire quanto quanto l'equivoco riguardo a ciò che il fascismo e i fascismi portano nel mondo al loro lascito mortifero possa essere vasto e profondo e quanto la sottovalutazione dei nemici della democrazia fin dove possa spingersi anche da parte degli alfieri della democrazia pensate a Winston Churchill ora Winston Churchill quando dice se io fossi stato italiano sarei stato con loro dal primo momento dice una verità incontrovertibile non c'è dubbio perché Winston Churchill adesso non voglio aprire questo capitolo ha potuto ergersi da solo da solo con la sua nazione con il suo popolo alle spalle contro Hitler perché per alcuni aspetti gli somigliava Churchill era un soldato dell'impero aveva combattuto nelle guerre imperiali dell'impero inglese in gioventù apparteneva a quel vecchio mondo lì imperialista militarista maschilista misogeno alcolista era tutte quelle cose lì e però era anche un paladino della democrazia e non a caso gli inglesi dopo che lui aveva salvato in Inghilterra il mondo alle elezioni successive in tempo di pace lo mandarono a casa perché firono che andava benissimo come leader da tempo di guerra ma non lo volevano in tempo di pace allora lui sarebbe stato sicuramente un fascista Churchill in un primo tempo se fosse stato italiano e però voglio rimandarvi al quarto volume di M che uscirà a alcune dei passaggi più efficaci e più duri e più belli dei meravigliosi discorsi di Churchill durante la seconda guerra mondiale le sue orazioni diciamo politiche e civili che tanto ruolo ebbero come arma proprio di guerra nel sostenere il popolo quando disgustato nauseato dal comportamento di Mussolini che pure vent'anni prima aveva ammirato lo crocifigge con perché lui era un finissimo oratore ha delle ha delle espressioni che fotografano in maniera impietosa le scelte di Mussolini durante la seconda guerra mondiale dandogli dello sciacallo e cose ma vi prego di andarvele a vedere allora un altro aneddoto che ci riguarda nel 1927 c'è una partita di calcio visto che siamo in tema di europei tra Italia e Svizzera e per la prima volta in quell'occasione la nazionale italiana indossa la camicia cioè la tenuta nera con il simbolo del fascio quindi il fascismo entra anche nello sport però era una citazione così solo perché siamo in Svizzera adesso io vorrei fare un salto in avanti perché tu dici che Mussolini è un po' l'archetipo di ogni futuro leader populista e dici anche che sostiene anche che l'Italia non ha ancora fatto i conti col fascismo e per questo motivo hai voluto raccontare questo libro che è il primo romanzo lui lo chiama documentario perché in effetti è un documentario non è soltanto un romanzo storico dalla parte dagli occhi dal visuale dei fascisti perché tutti i romanzi su quel periodo che noi siamo stati abituati a leggere a scuola sono quelli di Pavese di Fenoglio di Lusso insomma che raccontano il fascismo ma dalla parte degli antifascisti una domanda un po' duplice che già mi sono dimenticato la prima metà la prima era il leader di ogni futuro popolino l'archetipo di ogni futuro popolino aspetta che ore sono perché già 9.20 9.20 e a che ora abbiamo cominciato? alle 8.30 la mia e a che ora dobbiamo finire? tra poco tra poco io ho il timer lì davanti allora partiamo dal secondo corno della domanda perché sono tutte e due domande per me essenziali fondamentali allora è vero la Repubblica italiana la democrazia italiana mi permettete di dirlo la civiltà italiana attuale si fonda sul mito resistenziale che cosa intendo per mito resistenziale che è una frottola che è una menzogna no niente affatto nel senso proprio etimologico del racconto mitos è un racconto fondativo un racconto un racconto delle origini su cui la storia di quel popolo la vita di quella comunità si fonda no l'Iliade è il racconto fondativo della della Grecia dell'età classica no l'Eneide lo è per la Roma imperiale eccetera senza il mito il racconto del fascismo degli anni della guerra visto dall'ottica degli antifascisti dei resistenti delle vittime del fascismo la repubblica italiana la democrazia italiana la civiltà italiana non sarebbero esistite nella forma che noi abbiamo conosciuto quindi non giusto sbagliato ma necessario va bene io arrivato diciamo alla vita adulta e alla vita intellettuale alla vita etica sul finire del secolo insieme ad altri certo non solo mi è parso di capire che quel racconto però avesse avuto anche delle zone d'ombra non dico delle inesattezze delle parzialità delle partigianerie certo che era un racconto partigiano era un racconto partigiano come no io ricordo che quando sognavo di fare lo scrittore da ragazzo no sognavo un giorno a me i fascisti non mi hanno mai affascinato neanche come Mussolini non mi ha mai attratto io sognavo di scrivere un romanzo che avesse per protagonisti i partigiani vedevo i titoli non so di questo libro bello di Giorgio Bocca partigiani della montagna con questi omini sulle creste fotografati da lontano certo però partigiani della montagna lo puoi scrivere solo se sei stato un partigiano della montagna non io volevo scrivere un libro sugli antifascisti come tutti i giovani della mia generazione l'ultima dei ragazzi del secolo scorso che è l'ultima ad essere educato nella cultura dell'antifascismo della democrazia antifascista e anche del mito resistenziale cosa rimaneva in ombra cosa è rimasto in ombra fino ad oggi e non fino a ieri anzi fino a domani è rimasto in ombra il fatto che noi italiani siamo stati fascisti non tutti certo ma la maggioranza e se tu la racconti sempre nell'ottica della visuale diceva bene lui degli antifascisti non vedi che la cosa essenziale per fare i conti con quella pagina tremenda di storia è l'assunzione di responsabilità e di colpa che discende dal presupposto di sapere di essere stati fascisti cioè che gli italiani sono stati fascisti che il fascismo è stata un'invenzione dell'Italia una delle ultime grandi non dal punto di vista di un valore ma della sua diffusione l'ultima delle grandi invenzioni dell'Italia nel mondo è stato il fascismo allora la narrazione egemone fondata sul mito resistenziale su cui si fonda la Repubblica della Mancanzia e la Civiltà Italiana ha avuto come conseguenza negativa di aver reso più difficile fare i conti superare elaborare storicamente a livello di coscienza civile e nazionale il passato fascista degli italiani perché gli italiani si sono polarizzati da un lato nell'identificazione con la posizione simbolica della vittima il racconto e dall'altro invece i nostalgici che nelle fogne dove sono stati per decenni e dove hanno covato secoli di rancore rimpiangevano reclamavano rivendicavano tutta un'altra storia allora io credo che lungo questa strada noi siamo giunti al nuovo secolo anzi al primo al secondo decennio terzo addirittura del nuovo secolo non avendo mai fatto i conti col nostro passato fascista il nostro passato fascista è rimasto salvo insomma pochi un sottile strato di persone particolarmente votate particolarmente oneste intellettualmente dediti agli studi a differenza che in Germania è rimasto un un osso non digerito diciamo così dallo stomaco della storia nazionale il grande successo in Italia di questo libro di questi libri è in buona parte dovuto a questo cioè al fatto che avendo io adottato la visuale dei fascisti e quindi avendo ribaltato la narrativa egemone che metteva al centro la prospettiva degli antifascisti e dei cosi ha incontrato moltissimi lettori che volevano sapere volevano conoscere volevano rielaborare diciamo così e d'altro canto però dobbiamo anche dire che i recenti fatti politici dimostrano che c'è una maggioranza del paese che non è interessata diciamo a questa a questa riconciliazione con la nostra storia cioè a questa consapevolezza di chi siamo e da dove veniamo Allora sì mi fa segno Roberto che dobbiamo terminare? Basta Ok Magari la domanda potrebbe partire da qui insomma no? Io darò risposte telegrafiche lo prometto Quindi domande telegrafiche per risposte telegrafiche Pianzare la mano le nostre ragazze vi raggiungono con un microfono Lei in fondo e poi c'è la signora qua la signora qua Buongiorno buonasera io ho apprezzato molto la sua valutazione chiedo scusa sono arrivato in ritardo io sono figlio nipote di un antifascista nel senso che il mio nonno era un ardito monarchico quindi in Piemonte in una zona dove il battaglione M non è mai riuscito la zona di Biella per la precisione però la cosa che vorrei capire è in base ai racconti di mio nonno il problema fu per noi in Italia per la mia famiglia la RSI ovvero sia pochi in Italia si ricordano che c'è stata una guerra civile e l'ultima guerra civile italiana è stata quella dopo l'8 settembre 1943 che è andata fino al 1948 di fatto perché dopo c'è stata la controreazione io trovo un po' ingiusto dire che gli italiani sono stati sì sono stati tutti fascisti ma dopo il 1938 molte cose sono cambiate perché molti si sono sentiti traditi dalla dichiarazione di guerra con la Francia non dico dopo l'8 settembre 1943 in cui noi abbiamo la nostra famiglia ha patito delle cose incredibili e tutti sono passati da essere simpatizzanti del fascismo a nemici dello stato fantoccio nazista tedesco del nord Italia questo bisogna ricordarlo perché il retaggio dell'RSI è questo e bisogna ricordare anche un'altra cosa e qui chiudo il generale della chiesa caro Alberto della chiesa era figlio di romano della chiesa che andò a Brindisi con il re perché dovete fuggire in quanto dopo l'anato di San Lorenzo venne che venne bombardato Roma Mussolini venne arrestato dai carabinieri tali carabinieri vennero sciolti nel nord Italia dai nazisti perché non si fidavano quindi pochi sanno che nel nord Italia i carabinieri non esistettero più perché vennero sciolti il padre di caro Alberto della chiesa andò giù nel sud e creò i reali carabinieri del sud quindi c'è stata una forte reazione molto più grande di quello che si dica io sentire che gli italiani sono fascisti oggi no mi spiace non ci sto chiedo scusa allora ascolti lei è un maschio adulto quindi mi permetterà di essere un po' brusco dunque io non ho affermato se si riferiva a questo che gli italiani oggi sono fascisti ho affermato che la maggioranza degli italiani non avverte il problema del passato fascista e dell'ombra lunga che stende sul presente non lo ritiene importante non se ne disinteressa sono due cose diverse poi lei fa bene a ricordare quanto la reazione nei confronti del fascismo sia stata forte e vasta e anche gloriosa dopo l'8 settembre del 43 non prima abbia pazienza non prima ma lì lì comincia il mito resistenziale quella fase in cui gli italiani dopo essere stati fascisti si scoprono antifascisti ma noi siamo perfettamente d'accordo allineati su questi guardi purtroppo non dal 38 nel settembre e poi ottobre novembre del 1938 Benito Mussolini volendo emulare in qualche modo anche adeguare la propria politica razziale a quella della Germania nazista pur non essendo stato mai lui un antisemita feroce fin dalle origini come invece lo era Hitler promulga una serie di leggi razziali anzi di leggi razziste di leggi di persecuzione non degli ebrei italiani ma degli italiani di religione ebraica che all'epoca non hanno uguali al mondo in quanto a ingiustizia ferocia nemmeno quelle della Germania nazista a quella data erano così tremende i bambini italiani di religione ebraica dall'oggi al domani si trovano senza una scuola in cui andare quelli di voi che hanno figli ancora bambini si immaginano che domani mattina si svegliano e devono dire al loro bimbo tu oggi non vai a scuola perché non ti vogliono più così comincia non hai più una scuola e gli italiani reagirono allora gli italiani erano antisemiti no non era un sentimento diffuso nel popolo italiano c'erano delle sacche per carità gli italiani non capiscono la maggioranza e non condividono la legislazione razzista del regime va bene nell'autunno del 38 ma fanno qualcosa dicono qualcosa no condividevano l'alleanza con Hitler la maggioranza no fanno qualcosa dicono qualcosa no gli italiani che erano stati fascisti non tutti alcuni avevano lottato io lo racconto erano stati perseguitati ma la maggioranza per convinzione per convenienza per inerzia si svegliano al rifiuto e al rigetto del fascismo soltanto dopo la catastrofe nazionale dell'8 settembre quando l'Italia la guerra è persa quando vengono le città d'Italia vengono bombardate quando vengono mandati al massacro solo allora ed è vero a quel punto è forte è potente è gloriosa anche ma è la reazione il risveglio di un popolo che era stato fascista tantissimi degli eroi della resistenza erano stati fascisti tantissimi e va a loro onore il fatto che è un certo non so quanto sia popolare qui ma uno dei santi laici diciamo così della cultura italiana degli ultimi decenni che è scomparso da qualche anno si chiamava Mario Rigoni Stern questa figura di vecchio canuto delle montagne che ha scritto questo libro meraviglioso il sergente nella neve la più bella testimonianza della campagna di Lussia della ritirata da Caporetto che è assurdo uno dei simboli dell'antifascismo però nessuno più ha voluto ricordare che Mario Rigoni Stern era stato un soldato convinto e ardente volontario delle guerre fasciste aveva combattuto in Francia aveva combattuto in Albania era stato due volte volontario in Russia con gli alpini dall'altopiano di Asiago fino al giorno in cui lui e tutti i suoi commilutoni e i suoi compagni e amici erano stati miserabilmente abbandonati nella neve del Don dallo stato maggiore di un esercito fascista sciagurato che li aveva mandati al macello e poi li aveva lasciati soli quel giorno lì Mario Rigoni Stern aveva smesso di essere fascista al punto di rifiutarsi di andare a lavorare nei campi in Germania di essere internato e tutto sì ma quel giorno lì aveva smesso Mario Rigoni Stern capite? la risposta non era telegrafica non era telegrafica non sono capace ma nemmeno la domanda nemmeno la domanda buonasera mi fa molto piacere di ascoltare la sua esposizione e che anche quel tratto che disegna di Mussolini è molto sfaccettato io come si sentirà dal mio accento io sono tedesca per cui vedo o posso confrontare il diverso atteggiamento verso il passato fascista o nazista dei due popoli e noto che i tedeschi hanno fatto un grande lavoro decennale decennale finalmente anche di elaborare il periodo buio della catastrofe umana che c'era mentre negli italiani noto che c'è una divisione netta cioè come se le due frazioni non si parlano cioè i fascisti sono rimasti fascisti e i antifascisti sono rimasti antifascisti ma non c'è stata proprio un'elaborazione di questo passato qua per cui rimane un sottofondo che potrebbe facilmente anche risvegliarsi e poi anche Mussolini è mai stato proprio dipinto nella sua brutalità pochi sanno che lui ha avuto una prima moglie che l'ha rinegata e l'ha fatta internare in un manicomio allora lei non è della Svizzera italiana questo esiste una parola in tedesco che è troppo lunga io non me la ricordo mai che indica proprio questo processo diciamo storico alcuni lo traducono con superamento del passato con cui il popolo tedesco ha fatto i conti con il proprio passato nazista c'è un termine specifico che si usa non me lo ricordo ma per dire quanto sia diverso da ciò che è accaduto in Italia no vorrei soffermarmi su una cosa che ha detto allora adesso mi permetta di fare questo qui dovrei tacere lo so ma non resisto è vero quello che Mussolini fece a Ida Daltzer si chiamava così lei diceva che lui l'aveva sposato lui lo negava fu veramente terribile e disgustoso tra l'altro lei gli aveva anche prestato dei soldi lui a un certo punto gli aveva partorito un figlio che si chiamava che lei chiamava Benitino e lui la fece internare e lei finì la sua vita in manicomio e anche il figlio e anche il figlio il bambino fece una morte prematura e orribile Marco Bellocchio grande regista italiano ci ha fatto addirittura un film ora questa cosa qui di Benito Mussolini ci fa abbastanza schifo a tutti credo però posso anche dire che diciamo così le colpe di Mussolini nei confronti dell'umanità vanno ben oltre quello che lui fece alla Dalser sì è commovente questa cosa di aver fatto internare l'ex moglie che ha qui dove anche dei soldi ma fece ben di peggio insomma Mussolini ha mandato a morire milioni non solo di italiani ma di europei insomma ha delle colpe che vanno ben oltre ben oltre quella allora lei a un certo punto ha detto questa cosa gli italiani sono ancora divisi in fascisti e antifascisti e come se fossero sempre lì non si fossero mai mosse io purtroppo temo che la realtà sia peggiore di quella che lei ha dipinto i fascisti diciamo così ci sono sempre stati nella prima repubblica vigeva quella che si chiamava una pregiudiziale antifascista cioè prima di accedere alla vita politica di governo al dibattito pubblico di essere ammesso e cose dovevi accettare l'antifascismo preliminarmente in maniera genuina o ipocrita però questo non ha impedito che il quarto partito in Italia sia stato spesso il movimento sociale italiano che era un partito che esplicitamente si rifaceva all'esperienza fascista anzi alla sua parte peggiore a quella della repubblica sociale no quindi fascisti e non ha impedito alla democrazia cristiana quando le conveniva e le serviva di usare la sponda del movimento sociale per esempio per sbarrare la strada al movimento che lottava per i diritti della donna sono tutte cose che poi uno si dimentica ma quando i democristiani volevano a tutti i costi impedire che in Italia fosse una legislazione sull'aborto sull'interazione volontaria di gravidanza si trovavano la sponda anche nei missini cioè nei neofascisti avete presente la democrazia cristiana quelli lì allora i fascisti ci sono sempre stati ci sono ancora semplicemente ora non stanno più all'opposizione diciamo la la cosa che a me preoccupa invece è la la presunta permanenza in vita degli antifascisti e su quello su cui avrei qualche dubbio in più e non è una battuta e non è come dire una così una provocazione io sono consapevole che l'antifascismo di tipo novecentesco no? quello come è stato praticato dai nostri padri e nonni e quello che noi abbiamo ereditato si è uscito fuori corso storicamente no? come una moneta che a un certo punto non vale più era un antifascismo di tipo militante che anche ideologicamente orientato diciamocelo schierato sotto bandiere ben tinte con colori accesi di solito rosse non sempre ma prevalentemente e quello ha fatto il suo tempo uno dei motivi per cui ho sentito che era divenuto possibile raccontare il fascismo dal di dentro no? perché se lo avessi fatto quel tempo lì mi avrebbero mangiato no? e però era diventato necessario perché poteva contribuire alla ricerca di una nuova forma di antifascismo non militante non ideologica no? è per questo che ho scritto questo libro insomma noi dobbiamo trovare rifondare l'antifascismo sul fatto che i fascisti ci siano ancora non ho nessun dubbio ma sul fatto che ci siano ancora gli antifascisti che ho qualche timore l'antifascismo va ritrovato va rifondato su basi diverse da quelle ideologico militanti politiche del novecento e vi lascio su questo perché è tardi non voglio togliere la parola a nessuno ma come lo immagino io come lo sogno io un auspicio io auspico un antifascismo che possa abbracciare sotto le proprie bandiere quasi neutre non so bandiera bianca no perché è una bandiera di resa ma senza colori troppo accesi tutti sinceri democratici siano essi di destra o di sinistra perché io so che a destra ci sono tantissimi sinceri democratici non è che io sia uno di quelli che identifica la destra con la dittatura con il fascismo per carità no tutti sinceri democratici qualunque sia il loro orientamento politico ideologico questo è il mio auspicio grazie grazie Antonio Scurati Marco Bazzi grazie a tutti grazie a tutti